Senza ombra di dubbio l'Italia è il paese del dissesto idrogeologico per antonomasia. Si calcola che circa la metà del nostro territorio è a rischio idrogeologico, ma questa percentuale in realtà è suscettibile di essere aumentata se la prendiamo con riferimento agli ultimi vent'anni, l'asso di tempo in cui questi fenomeni sembrano essere aumentati. Ci sono regioni come il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Calabria che hanno il 100% dei comuni a rischio idrogeologico. Ce ne sono altre che pur avendo il territorio a grande percentuale di rischio, il Trentino Alto Adige per esempio, o il Veneto, non hanno però un corrispondente numero di morti, di vittime rispetto al danno che invece si potrebbe scatenare, perché lì sono stati attenti al rischio e ne hanno tenuto conto nella pianificazione territoriale. Ci sono invece regioni, ahimè dovrei dirlo purtroppo, nel sud d'Italia come la Campania e anche la Sicilia in cui il rischio è altrettanto elevato come al nord, ma il numero di vittime è molto più alto, considerevolmente più alto. Lì significa che dunque ci si è mossi peggio, non si è tenuto conto dell'esigenza del territorio e molto spesso si è costruito in maniera abusiva. Oggi l'abusivismo è uno dei fattori di rischio più importanti, perché chi costruisce abusivamente non tiene conto dei vincoli idrogeologici, tanto meno di quelli costruttivi, ma quello sarebbe un altro affare, e dunque si pone oggettivamente in zone in cui il rischio non c'era e lo crea da capo. E' il caso per esempio della provincia di Messina, che è oggi virtualmente sottratta al territorio d'Italia, in quanto tutta interamente in frana. Il discesso idrogeologico può essere sanato soltanto con una politica di risanamento del territorio, e questo avviene per via naturale ormai, non basta più l'imposizione di gabbioni di cemento, di muraglioni di cemento, questi non servono. Ogni elemento di sclerotizzazione del territorio anzi comporta un maggiore rischio idrogeologico. Questo vale per le frane, ma vale soprattutto per le alluvioni. I fiumi devono essere lasciati in pace di scorrere dentro i propri alvei. Le aree golenali, quelle che il fiume normalmente occupa quando è in piena, vanno lasciate sgombre. Non bisogna né viverci né metterci attività produttive. Invece in Italia la regola sembra essere il contrario, sono aree appetibili su cui si costruisce molto spesso. Se invece si lascia al fiume il tempo e il modo di espandersi in zone deserte, farà meno danni quando arriva in una città. È il caso di Roma, Coltevere, al nord di Roma, nella zona di Castel Giubileo oppure a Orte, dove le grandi aree di pianura debbono essere lasciate libere. È il caso del Po, in tutte le pianure che si aprono lungo il suo corso, è anche il caso dell'Arno. In tutte queste possibilità di alluvioni, prossime venture, dobbiamo mettere in conto anche il cambiamento climatico che è in atto. Se fa più caldo, c'è più energia nell'atmosfera, le precipitazioni cambiano di modalità di frequenza e di numero. Oggi non abbiamo più la pioggerellina sottile di un tempo. Abbiamo invece delle vere e proprie bombe d'acqua, i cosiddetti flash flood, le alluvioni improvvise. Queste possono venire anche fuori stagione e inondare letteralmente un territorio con la stessa acqua che un tempo cadeva in una settimana o due, in due o tre ore di tempo. Dunque questa è la situazione che ci troviamo a fronteggiare e non la si potrà certo fronteggiare continuando a costruire dove non si deve. Il distancio idrogeologico è una questione naturale. L'Italia è un paese geologicamente giovane, molto attivo, piove parecchio. In questo periodo dunque le frane e le alluvioni aumentano, ma la sua caratteristica catastrofica gliela conferiamo noi, mettendoci a vivere in posti dove non dovremo. Vale la pena di ricordare infine che contro le frane e le alluvioni non c'è modo di costruire bene, come si può per esempio contro un terremoto. In quel caso se costruisci bene non viene ucciso. In quel caso invece, nel caso delle alluvioni e delle frane, bisogna soltanto spostarsi dalle zone di rischio e andare altrove.